Amici di Youtube e di Instagram, buonasera a tutti quanti, signori, buonasera a tutti, buonasera, buon martedì e sera a tutti quanti Buon martedì di Champions, adesso sono qua tra l'intervallo, tra la fine del primo tempo sia di Barça-Napoli che di Arsenal-Porto Ma ovvio poi, non ci sarà tempo per parlare delle due partite comunque Oggi è la vigilia di Atletico Inter, della gara di domani, una partita di cui sappiamo l'importanza, soprattutto di cui sappiamo il valore morale della partita Visto che io l'aria è stata una partita, quest'anno la Champions io non la vedo tanto come un'ambizione, come dire, un miraggio Perché io mi sono sempre ispirato, sempre sottolineato il valore dell'Inter di Inzaghi in Europa E non è solo una costante di Istanbul, l'Inter di Inzaghi in Champions ha sempre fatto bene, dal primo anno E infatti io ho sempre avuto questa mia teoria, poi oggi nella conferenza stampa del mister ha un po' riconfermato quello che penso Quello che penso è appunto di una squadra che sicuramente sarà figlia di Istanbul per quanto riguarda la mentalità Perché da dopo Istanbul sicuramente di testa è un'altra Inter, sicuramente non ha quella foga, quella frenesia di perdere troppi punti Di cercare di recuperare la partita È una squadra più matura, dopo Istanbul sicuramente, ma sotto il punto di vista della testa Sotto il punto di vista del gioco, invece, della produzione di pallegole, di tutto quello che concerne la magica Inter vista fino ad adesso È un lavoro di anno dopo anno del mister sin dal primo anno di Inter del nostro demone di Piacenza Perché ricordiamo che l'Inter in primo anno in Champions, la prima partita di Champions contro la Real Madrid a San Siro È una grandissima partita dei ragazzi, un Inter che stradomina per il lungo e per il largo Una partita dove l'Inter meritava assolutamente di stare 2-0 al primo tempo con, mi ricordo, due miracoli di Courtois su Dzeko Palo di Lautaro, se non sbaglio, insomma Era stata una partita veramente dove l'Inter meritava di vincere Poi la vai a perdere perché Vecino entra da Minchione e sbaglia la marcatura Rodrigo da solo, Camavinga fa quel bel cross e poi il Real vince 1-0 all'ottantanovesimo Totalmente in un modo casuale, tant'è che poi dopo anche dalla Spagna sono arrivati grandissimi complimenti per Inzaghi Quindi, ma poi ne possiamo mettere tante nell'elenco Cioè, ragazzi, noi il primo anno di Inzaghi usciamo dalla Champions agli ottavi con il Liverpool Dove dovevamo prendere l'Ajax Poi per quel sorteggio lì che è fallato, perché mancava una pallina, vi ricordate, no? Abbiamo dovuto rifarlo, abbiamo preso il Liverpool Ma noi siamo usciti con il Liverpool, che è arrivata in finale Con il Real Madrid, che è stata l'unica squadra che ci ha battuto nel girone Bisogna dire anche le cose come stanno, no? E poi, per non dimenticarci, anche il ritorno a Madrid Di un Inter che si era giocata fino alla fine a viso aperto Nonostante fossimo scesi in campo con le riserve Una partita che non valeva tanto, perché alla fine eravamo già passati Una partita che valeva per il primo posto nel girone Ma nonostante quello, nonostante l'espulsione di Barella Stavamo ancora, ce la stavamo ancora giocando alla pari Infatti il Real poi lì non ha neanche dilagato Ha vinto con due tiri da fuori Quindi, per poi non parlare della partita con il Liverpool a San Siro Un dominio, sempre per una roba di due errori Due errori, due singoli Prendiamo quei due gol Con la traversa di Cialanoglu Oppure con il Liverpool, ci ricordiamo, no? Poi il ritorno, vinciamo dopo un anno di imbattibilità del Liverpool a Danfield Vinciamo con quel golasso del Toro Di collo da fuori aria Che è una traiettoria veramente monumentale Ma vinciamo una partita che Vabbè, loro avranno pure preso due pali No, sì, due traversa e l'hanno preso Però l'Inter lì ha fatto una partita insomma da grande squadra Contro Contro Una Una squadra Che fino a quel momento lì A parte che è rimbattuta da un anno in In casa ad Anfield E poi aveva una rosa Con tutto il rispetto non è quella di adesso Di Liverpool Quindi Che è forte lo stesso di Liverpool adesso Però i tempi da un'altra squadra Quindi Cioè, questo è da sottolineare E poi l'anno scorso Anche il percorso che abbiamo fatto in Champions L'anno scorso È tutto un frutto del lavoro Non è frutto di Perché poi sai cos'è? A loro gli fa comodo dire quello che vogliono dire Perché Prima iniziano a dire che l'Inter è arrivata in finale Grazie ai sorteggi Benevoli Perché ha beccato squadre di merda Come il Porto Il Benfica Il Milan Che alla fine di squadre di merda Tra queste c'è solo il Milan Però vabbè E poi a parte tutto Quando gli fa comodo a loro Quindi l'Inter è arrivata in finale Così casualmente l'anno scorso Invece Invece Negli ultimi mesi Che stanno decantando E stanno praticamente Quasi obbligando l'Inter A vincere la Champions A dover vincere la Champions Perché così Se usciamo Se dovessimo uscire domani Oppure Con Ai quarti Saprebbero cosa dire Per romperci i coglioni Perché così è tutta una roba Strutturata Capite Dai giornalai Però Capite anche Che Quando gli fa comodo a loro L'Inter è quella che È arrivata a culo Davanti E però Due settimane fa Dicono L'Inter Finalista L'anno scorso Vice campione d'Europa Allora Quando fa comodo a te Siamo vice campione d'Europa Quando fa comodo a te Siamo arrivati in finale a culo Allora Bisogna fare un po' di chiarezza Quindi se le solite Non le solite paracurate Dei giornali Per quanto riguarda Quindi A partire di domani A partire di domani È una partita Che sarà molto accesa Per quanto riguarda Le provocazioni Le risse Perché quelli Sono in casa La cercheranno Di buttare in cacciola Al 100% Infatti Ci hanno manato Marciniac Come arbitro L'arbitro della finale Dell'anno scorso Il pelato Che è un arbitro Che non è tanto Come dire È un arbitro Molto clemente Sul punto di vista Dei cartellini Quindi ci sarà Da ridere Abbiamo tantissimi diffidati Tra cui anche Lautaro Quindi bisogna stare attenti Domani Soprattutto per Le provocazioni Perché ripeto Questi qua Sono un po' come L'allenatore Sono un po' come Il ciolo Quindi Dove non arrivano Con il calcio E con la tecnica Arrivano con le provocazioni Arrivano con I fattori esterni Quindi ci sarà Veramente da Tenere la lucidità Perché non è Una partita Come le altre Difidati Sono Mkhitary Naslani Frattesi E Lautaro Insomma Bisogna assolutamente Tenere la lucidità Regolare Ricordiamo anche Cos'era L'anno scorso Due anni fa Che hanno fatto Quella maxirissa Col City Al Sempre alla banda Metropolitana Che sono dovute Intervenire Le guardie Gli alleanti Sono mosse Hanno fatto di quelle risse Quindi ragazzi Questi Veramente Tenteranno Di metterla Su tutti i piani Possibili Quindi bisogna stare tranquilli Stare calmi Secondo me L'intervista Quest'anno Negli ultimi mesi Può sicuramente Fare almeno un gol In casa loro Nonostante sia un ambiente Ostile Sicuramente Cercherà Non è bene o nel male Di fare la partita Di recuperare Comunque il risultato La formazione È la titolarissima Sommer in porta Pavardo a destra De Vrij centrale Ricordiamo che De Vrij Ha tenuto benissimo All'andata Tutto l'attacco Dell'Atletico Sia quando c'era Llorente Fuori ruolo O poi anche Con Morata Nel secondo tempo Quindi Grandissima prestazione E dimostrazione Dell'olandese Quindi Acerbi In In panchina E poi Sulla Sinistra Il Briscola Che torna Dunfri Titolarissimo Sulla destra Dicono Quanto pare Dunfri Dovrebbe giocare Poi Darmiana Ha già giocato 90 minuti Sicuramente Contro Il Bologna Ha faticato Sempre di più Perché Deve Prendere Troppi impegni Riavvicinati Normale Che quest'anno Poi si sta facendo Vedere anche In un periodo Che è un po' Fisicamente Ne risente Anche un pochino Soprattutto Per quanto riguarda La fase di spinta Invece Darmiana Abbiamo visto anche Che Sempre Darmiana L'andata Sofferto Un po' Troppo Lino Ma in tante Fasi Soprattutto Sul Due ripartenze Che sono state Poi L'Atletico Non ha fatto niente Perché non ha fatto Niente di importo Però sicuramente Con Dumfries Secondo me È la mossa giusta A mettere Denzel Secondo me È la mossa giusta A mettere Denzel Ricordiamo poi Denzel Io Quando Parlo Della partita di domani Mi viene in mente La partita col Porto Dove facciamo Quello 0-0 Lì Soffertissimo Dove Fa Due miracoli Paurosi Onana Quello su Taremi E l'altro E poi Il salvataggio Su la linea Di Dumfries Dove ha salvato Anche la palla Con il Benfica A Lisbona Quindi Dumfries È Ben Nel male Comunque È l'uomo decisivo È stato L'uomo decisivo Della Champions Dell'anno scorso In due salvataggi Imperiosi E clamorosi Quindi Secondo me È anche una giusta mossa Mettere Denzel Non solo per i salvataggi Ma anche perché Comunque Ti garantisce più spinta Di un Dalmian In questo momento Sicuramente Non è al 100% Delle energie Barellino Ciao Amici titolarissimi E davanti La Tula Per Vincere E per Qualificarci E Per arrivare Ai quarti Un passaggio Del turno Che se guardiamo I primi 90 minuti Assolutamente Non c'è paragone Perché Meritiamo 100 volte Di passare Noi rispetto a loro Per La lezione di calcio Che il mister Gli ha impartito A Simeone Per quanto riguarda L'andata Quindi ragazzi Ci vediamo domani Poi con il video Post partita Ah Poi volevo Aspetta E mi sono dimenticato Di una cosa Molto importante Oggi Arriva la notizia Che La guardia Di finanzia Di finanzia Me ne viene una Anche oggi Cazzo La guardia di finanza Ha Sequestrato I telefonini Computer Di Elliot E Cardinale Per quanto riguarda Il passaggio Di proprietà Che è avvenuto Quest'estate Ora Quante volte Il sottoscritto Vi ha detto In tutti i video Anche sul vecchio canale Che Sono due passaggi Di proprietà Di fila Del Milan Che puzzano Dalla testa Ai piedi Il primo Di Yongong Lee A Elliot Il secondo Da Elliot A Cardinale Perché Ricordiamo Che Quando Yongong Lee Passa la palla A Elliot Per il passaggio Il primo passaggio Di proprietà Tra i cinesi E il fondo Di Di Elliot Ah no Si Gazzidis L'altro Si Gazzidis Che è il direttore Lì Del fondo Vi ricordate Il servizio Di report Quando entrò L'intervistatore Lì Che fece il servizio Che doveva avere Un appuntamento Col presidente Del Milan Entra in una camera E c'erano Un napoletano Due cinesi E un Cos'era l'altro Erano due napoletani Un cinese E un albanese E questo Uno che Prende un colloquio Con il presidente Del Milan Si trova Non so Quattro figure Quattro persone Al tavolo Infatti Da lì poi È successa Tutta quella storia Dove Sala Doveva già Avviare le pratiche Per il nuovo stadio E appena Ha visto sta cosa Ha detto Fermiamo tutto E L'altro passaggio Di proprietà Che puzza Dalla testa E i piedi È quello Di Di Cardinale Perché Cardinale È un fenomeno Praticamente Che per comprare Il Milan Ha chiesto I soldi A Elliot Quindi Un presidente Del Milan Che si fa i debiti Per comprare Il Milan Tutto Tutto a norma Tutto a norma Però rompono il cazzo Solo a noi Tutto a norma Sicuramente Nessuno Ma di che cazzo Stiamo parlando Qua Quindi io Quante volte Vi ho detto E vi ho descritto La situazione Di tutti i due Passaggi Di proprietà Che fanno Veramente Lasciano La gente Senza parole Perché Per i più attenti Perché poi Vabbè Quelli che gli piace Prenderla nel culo E avere le fette Di salami Sugli occhi Sono tanti Però Ah perché Ragazzi È scandaloso Io spero Che non Su quei telefoni Non abbiano Anche le intercettazioni Di come hanno vinto Lo scudetto Due anni fa Con le partite Apparecchiate Arrubate Come si suol dire Perché sennò Veramente Partirebbe Il finimo Un altro Che calciopoli Quindi I vostri gemellati Sempre più A braccetto Indagati Siete indagati Ladri Siete ladri Dopati Siete dopati Perché mi pare Che il vostro portiere Qualcosa Eh Quella buona Gli gira anche a lui Eh Eh Quella buona Gli gira anche a lui Eh Non ho detto niente Non ho fatto nessun gesto E quindi ragazzi Amala sempre Sempre forzanti I gemellati Che è un bel accetto Ormai col bracciettino Lì Si sono un po' Risorpassati Settina la prossima Si risorpassano Ma state lì Nelle fogne State Va Poveri cazzo Come direbbe Un grande filosofo Dei nostri tempi Amala sempre Un bacione a tutti E sempre forza Inter Domani Col video Post partita Sperando Nel passaggio del turno Di una grande partita Dei ragazzi Mi raccomando ragazzi Non cadiamo Nelle provocazioni Perché questi qua Tenteranno di metterla Sul piano fisico Della cacciare Della risa Della provocazione Sin dal primo minuto Perché li conosciamo E sappiamo come sono fatti Vada ragazzi